Ciao amici di Discovering, come state? Sono qui per dirvi due cose. La prima è che se vi siete iscritti al canale vi sarete accorti che sono uscite tutte e se le puntate di Unbrainside, quindi mi raccomando fateci sapere se vi piacciono, commentate e la seconda ve la dico dopo la sigla! Mi avrete riconosciuto, io sono Elisa, una delle tre autrici di Unbrainside. L'annunge, parliamo dell'annunge. Dunque, vogliamo girare la seconda stagione di Unbrainside. Come sapete, la prima stagione ce la siamo completamente autoprodotta, la seconda stagione purtroppo non potrà realizzarsi se non con la visione di questi. Sempre loro amici, sempre loro. Quindi se sei un imprenditore e stai guardando questo video e vorresti partecipare attivamente alla produzione della seconda stagione di Unbrainside, scrivici nei commenti, contattaci, facci sapere se sei interessato. Questo è un messaggio pubblicitario! Caro imprenditore Umbro, qual è il miglior modo per ottenere visibilità e branding se non promuovendolo a nostra bellissima regione e supportando un progetto giovane ed originale? Potremmo avere un confronto faccia a faccia per capire e mettere a punto tutti gli step da fare per andare a produrre la seconda stagione. Se invece non sei un imprenditore ma conosci un imprenditore che potrebbe essere interessato alla realizzazione della seconda stagione di Unbrainside, fagli arrivare questo video, perché così potremmo andare a vedere altri luoghi sconosciuti ma anche conosciuti dell'Umbria, raccontarli come abbiamo fatto nella prima stagione, che se state guardando questo video è perché perlomeno credo che un video l'abbiate visto e spero vi sia piaciuto il format, quindi solo con il vostro aiuto potremmo girare una nuova stagione. Una cosa importante è che questo annuncio, ragazzi, ha una scadenza. Noi vorremmo andare a girare la seconda stagione tra primavera e estate del 2022, quindi diciamo questo è il momento per potersi organizzare. Quindi fatelo in fretta se siete interessati. E chissà, chissà, chissà che non andremo ad utilizzare altri personaggi, quindi in quel caso dovremmo fare dei casting. Non lo so, vi piace l'idea? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E niente, tutto finito, l'annuncio è finito, vi lascio e arrivederci, ciao, grazie.